Ehi, ciao! Io sono Wilby e questo è il tuo posto sicuro. Come stai? Spero vada tutto bene. Oggi cercherò di farti dormire o perlomeno rilassare tramite due trigger che mi avete chiesto molto spesso, ovvero il tapping e lo scratching. Ho qui alcuni oggettini che secondo me potrebbero fare dei suoni carini. E niente, direi di iniziare con questa pochette che ha questa trama a coccodrillo rosa shocking. La maggior parte dei trigger che metterete oggi sono rosa perché in realtà avrei dovuto registrare un roleplay di Barbie. Sapete che ora esce il film. ci avrei messo troppo tempo e oggi va veramente troppo caldo quindi ho lasciato perdere e ho deciso di fare un video un po' più semplice perché ci tengo a fare il roleplay bene e so che con questo caldo non avrei dato il massimo quindi eccomi qui che vi porto qualcosa di un po' più semplice. non so se questo video uscirà prima o dopo il roleplay lo scopriremo solo vivendo vediamo se domani la situazione cambierà e farà un po' più veloca caldo. non so se ne cambierà e farà un po' veloca caldo. non so se ne cambierà e farà un po' veloca caldo. io ultimamente sono stata un po' assente dal canale perché sto cercando in tutti i modi di dedicarmi allo studio. siamo in piena sessione e ho provato a dare un altro esame. credo di avercela fatta. non so ancora i risultati ma penso sia andato bene. spero sia andato bene. sono abbastanza fiduciosa. spero che questo video non invecchi male. ho dato politica economica e finanziaria che è un esame da 6 crediti. anche abbastanza carino e ora ho intenzione di prepararmi anche per settembre per cercare di farne almeno uno. vorrei farne due ma devo abbassare le mie aspettative. io in realtà sono fuori corso ormai da un po' di tempo perché non ho passato un bel periodo durante il covid e perché ho provato a concentrarmi sul canale principalmente diciamo che mi aspettavo una crescita più veloce quando ho iniziato e non consapevole di quanto fosse difficile in realtà avviare un canale youtube in questi anni. e quindi ho dato il 100% andavo a dormire alle 6 di mattina stavo tutto il giorno ad editare ovviamente lasciando da parte l'università e questo ha fatto sì che ho mischiato con la mia salute mentale io sia rimasta con un po' di esame indietro ma va bene lo stesso non mi preoccupa la situazione perché nonostante questo poi in realtà quando mi metto vado bene il problema è che appunto sono stata praticamente due anni senza studiare o senza fare esami quindi potete ben capire che la situazione era un po' complicata adesso sto cercando di dare la priorità allo studio perché veramente voglio finire voglio finire a cercare di capire che direzione dare alla mia vita perché una certa bisogna anche comprenderlo farsi un'idea perlomeno e ora come ora non ho la più bella idea di cosa voglio fare ma... sì credo che sia un fattore comune un po' di tutti i giovani d'oggi il problema è che siamo costantemente bombardati da possibili lavori che non possiamo scegliere abbiamo troppe scelte secondo me e tutte queste possibilità che si possono aprire di fronte a noi in un certo senso possono bloccarti soprattutto se sei una persona che prova ansia nel fare delle scelte così importanti quindi sì è un po' nossimoro avere scelte e non poter scegliere ma secondo me questo è uno dei problemi dei nostri tempi passando a delle cose un po' più futili questo è il contenitore di un cuscinetto per le spalle e lo si può riscaldare o mettere in freezer per farlo diventare bello fresco e con la scusa che vi faccio il tapping qui ora ve lo mostro e me lo metto sulle spalle e questo è questo mi metto presente quello con queste palline un po' squishy ecco l'ho comprato ieri per fare appunto il roleplay di Barbie ma oggi me lo uso io no dai così non posso sono troppo ridicola me la metto nelle gambe va bene lo stesso mi rinfrescherà lo stesso e niente questo era il suo contenitore il tapping su questa plastica sembra quasi una leggera pioggerella su una grottaia su una grottaia che avete fatto durante questa estate avete in mente qualche viaggio qualcosa io onestamente odio odio l'estate davvero se c'è una cosa che non sopporto è il caldo e per cui viaggiare con il caldo è un'idea che non mi piace però ovviamente alcune persone hanno ferie solo d'estate e quindi si fa quel che si può e io abito vicino al mare non oso immaginare quelli che vivono in città come facciano davvero non oso immaginare perché qui bene o male c'è un po' di aria poi tra l'altro io abito in una città tipo con il clima migliore d'Italia quindi non dovrei lamentarmi guardando le temperature che stiamo raggiungendo però davvero difficile ora vi faccio un po' di tapping su di lui questo è molto più delicato questo è molto più delicato così con i polpastrelli secondo me il tapping con i polpastrelli è troppo sottovalutato davvero sono poche le persone che usano i polpastrelli principalmente maschi perché ovviamente diciamo che tendenzialmente le donne tendono ad avere lunghi lunghe e quindi sfruttano le unghie però secondo me su alcune superfici come questa è addirittura superiore al tapping con le unghie poi ovviamente sono gusti la cosa bella dell'asmr è questo che è una cosa che io posso amare può essere qualcosa di tremendo per te e viceversa e viceversa anche qui tipo ton clicking so che tantissime persone lo odiano ma a me piace cerco di farlo poco in realtà non lo faccio così mai però nei video dei suoni non mi dispiace quindi magari schippate qualche minuto su diate il tone clicking ok? ok no 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 grazie a tutti da questa parte invece il pelosetto bene poi questo è uno dei miei suoni preferiti di sempre ed è il suono della rivista incelovanata e questo taping un po' sticky mi ricorda tantissimo quando ero bambina compro i giornaletti in edicola per trovare i trucchi e da grande faccio esattamente la stessa identica cosa perché con la bellezza di 2 euro mi sono portata a casa la rivista è una bella matita Kajal di Catrice blu ora faccio un po' di tapping un po' di suoni e poi lo premio insieme e sbocciamo la matita questa è la rivista L e allora praticamente io ho scoperto dell'esistenza di questi giornali su tiktok mi spiego meglio in realtà ovviamente ho conoscenza del fatto che assieme ai giornali tessero dei regali eccetera ma non ci ho mai pensato non ci ho mai fatto caso non mi sono mai interessata poi mi è capitato un video dove dicevano che con appunto un giornale c'era questo regalo e niente mi sono appassionata all'edicola perché alla fine se sei appassionato di make up se ti piace il make up è un affare perché ovviamente la matita costa di più di 2 euro e in più è anche una rivista da smogliare io mi sa che questa poi la bagnerò la farò diventare bella gringol e ci farò dei suoni perché il suono sono delle riviste bagnate ma poi secche è stupendo avete presente quando lasciate magari la rivista sul lettino tornate tutti bagnati la prendete e poi si si asciuga al sole quando diventa un po' croccante ecco secondo me il suono è bellissimo e quindi questa la bagnerò apposta adesso apriamola ah e la cosa divertente è che mi fa troppo rite ho visto tantissime persone su Vinted comprare le riviste e rivendere i prodotti delle riviste al quadruplo dei prezzi su Vinted ma vi giuro che ci sono tantissime persone era andata virale una rivista che ti dava un rossetto di MAC in regalo e un rossetto di MAC in regalo con 2,50 euro è un affare effettivamente e la gente andava in edicola a comprare 5, 6, 7 riviste per poi rivendere i rossetti online pazzia davvero pazzia se cercate su Vinted li trovate questa è la matita Cajal blu adesso la proviamo qua vediamo com'è pure bella pigmentata MACadrice in generale è un ottimo brand low cost mi piace tanto allora a dire il vero no cioè sì ma dipende negli ombretti secondo me becca ma in generale un po' tutti i brand low cost negli ombretti non sono il massimo però per quanto riguarda prodotti viso come magari illuminante eccetera è davvero ottimo io ho un loro illuminante che amo era della collezione di Disney ve lo feci vedere anche un po' di tempo fa in video maleficent mi pare e lo uso letteralmente tutti i giorni davvero tutti i giorni sia sul viso che sulle palpe per illuminare un po' lo sguardo molto molto bello super consigliato anche l'altra volta abbiamo trovato nel giornale Chanel blu sarà contento Gabriele perché glielo regalerò a lui qui abbiamo il nostro Timothée non so se avete visto che esce il film di Willy Wonka con lui come protagonista sono davvero curiosa ammetto di essere un po' diffidente perché Johnny Depp Johnny Depp non c'è niente da fare raga Johnny Depp in questi ruoli è un mago diciamo che gli viene bene fare un po' lo svitato e niente lo so che è vero Willy Wonka non è Johnny Depp però per me è stato Johnny Depp e Willy Wonka è la fabbrica di cioccolato il secondo è uno dei miei film che ricerco quando ho bisogno di comfort quando voglio sentirmi bene sentirmi un po' bambina arrivato sempre a guardarmi la fabbrica di cioccolato è davvero stupendo e sogno di farci un roleplay da tantissimo tempo da davvero tantissimo tempo mi sa proprio che con l'uscita del film mi deciderò e lo farò devo studiarmelo bene ma voglio creare qualcosa di bello magari tipo dove creò del cioccolato strano oppure una sorta di degustazione di cose particolari buono lo so questo video ha preso una piega diversa di quella che mi aspettavo pensavo di fare molti più suoni molti più bigger e parlare molto di meno in realtà mi sono concentrata di più sul parlare che su su tutto il resto e ho portato pochissimo tapping e pochissimo scratching ma spero lo stesso di avervi fatto un po' di compagnia e qui vengo a farla apposta abbiamo ovviamente un servizio riservato a Barbie è incredibile quanto marketing abbiano fatto dietro a questo film davvero davvero incredibile collezioni eventi di tutto di più sincera io so che sarà trash da morire però non vedo l'ora di andare al cinema a guardarlo anzi mi sa che mi vestirò tutta rosa apposta mi accoggerò apposta giusto per il meme vi condividerò una foto facciamo che se faccio veramente questa cosa vi condivido la foto su instagram e se non mi seguite non lo spammo mai mi approfino instagram perché in realtà non pubblico chissà che però se non mi seguite seguitemi anche lì niente io qui sto facendo la colla quindi vi saluto spero di avervi tenuto un po' di compagnia di avervi rilassato e niente vi auguro una buona 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 no buona 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 Grazie.